Con il recapito a giorni alterni, nella provincia di Arezzo sono stati tagliati 61 posti di lavoro. A lanciare l'allarme ancora una volta l'attivo unitario dei lavoratori di posti italiane della Toscana a cui hanno aderito tutte e sei le sigle sindacali firmatari del contratto nazionale. E dal no dei sindacati al recapito a giorni alterni fa poi eco il no alla privatizzazione. Desta forte preoccupazione la decisione del governo di cedere il controllo del 35% delle azioni di poste a cassa, depositi e prestiti, insieme all'annunciata volontà di collocazione sul mercato del 30% di azioni rimaste in mano al Ministero dell'Economia e della Finanza smantellando di fatto un servizio pubblico rivolto ai cittadini e mettendo a rischio i lavoratori, si legge nel comunicato approvato dall'Assemblea. Una mossa che farà perdere definitivamente a posti italiane la caratteristica del servizio sociale che in futuro sarà costretta a rispondere solo alle logiche del profitto, con scarso interesse ai settori più deboli a cui oggi si rivolge. I segretari generali della Toscana dei sindacati di categoria ribadiscono poi le criticità emerse nel progetto di recapito a giorni alterni portato avanti da posti italiane ad Arezzo e Prato, ma che sarà realtà in tutta Italia entro il 2017. Faremo iniziative pubbliche per spiegare i rischi del progetto industriale di poste italiane che prevede privatizzazione e recapito a giorni alterni, spiegano i sindacati. Faremo incontri con le istituzioni, con i parlamentari toscani, con le associazioni dei consumatori e con i sindacati dei pensionati. Tutti devono sapere che la privatizzazione e il recapito a giorni alterni sono il frutto di scelte industriali sbagliate. Se l'azienda non ci ascolterà, concludono infine i sindacati, siamo pronti alla mobilitazione.